Gloriosi Medici Cosma e Damiano. Martiri della Chiesa di Dio. Decoro e vanto della città di Bitonto. All'inizio di questa giornata ed in questo Tempio. In cui si veneranno le vostre sacre e miracolose immagini. Eleviamo a Dio l'umile ma ardente preghiera. Perché vengano esauditi i bisogni spirituali e temporali nostri. E di tutti i devoti. Che fanno incessante ricorso al vostro potente patrocinio. Voi constatate in quanti. Sofferenti nel corpo e nell'anima. Vi si rivolgono con fiducia da ogni parte. Affinché possiate intercedere con sollecitudine presso il Signore. Per la guarigione dalla malattia. E per la piena salute dello spirito. Così come la vostra scienza medica ha guarito dal male fisico. Così vi esortiamo con intensità di cuore. Affinché la vostra carità lenisca oggi le piaghe dell'anima. E restituisca ad ognuno il dono della grazia divina. Insigni. Santi fratelli. Ottenete per tutti. In questa giornata. Celestie consolanti benedizioni. Ma in modo speciale fate che esse discendano sulla Chiesa. Sul Papa. Sul nostro Vescovo. Sulle nostre famiglie. Sui devoti tutti e su quanti generosamente concorrono. Con la preghiera e col sostegno materiale. Ad edificare il santuario intitolato ai vostri nomi e a testimoniare. in forme sempre nuove e consone ai tempi. La carità verso i fratelli affinché possano così essere celebrati. Nel tempo imperituri. La vostra memoria è il memoriale di Cristo. Cui avete voluto generosamente conformarvi a maggior gloria di Dio. Amen.